Quando tutti ci criticavano perché abbiamo bloccato lo sport, che poi soprattutto interessava il fatto che avessimo bloccato il calcio, in realtà poi quella è stata la misura che ci ha consentito di riprendere e di riprendere oggi. Quindi direi che ancora oggi dobbiamo però riprendere con tutte le cautele del caso, non possiamo ancora assolutamente parlare di tifosi allo stadio, dobbiamo attendere almeno le prossime due settimane per capire con la riapertura della scuola, che era assolutamente prioritaria per tutto il paese, quale sarà l'andamento dei contagi. Ovviamente io come Ministro dello Sport ho tutto il desiderio di rivedere i tifosi allo stadio, quindi ai primi di ottobre sicuramente ci rincontreremo col Comitato Tecnico Scientifico, valuteremo i dati oggettivi e lì dove sarà possibile un'apertura anche graduale la farò e la faremo con grande piacere. Il calcio dilettantistico e scuole calcio in realtà importanti in Campania e in Italia, chiaramente non hanno gli stessi mezzi dei professionisti, quale sarà il sostegno e anche le linee guida per poter ripartire? Allora intanto abbiamo per loro però messo a disposizione un fondo straordinario, centinaia di ASD e SSD hanno partecipato, hanno già ricevuto oltre 30 milioni di euro di sostegno e poi per quello che riguarda i protocolli stiamo studiando col Comitato Tecnico Scientifico ovviamente i protocolli diversificati rispetto a quelli della Serie A, perché per me è importante che riparta tutto lo sport. Grazie.